Ciao a tutti! Cosa ci faccio qui? Oggi ci prepariamo per una nuova giornata! Non metterò il rossetto, sapete tutti perché! Occhiali, autocertificazione pronta e documento di identità, immancabile mascherina e la chiave della mia macchina. Oggi vi porterò con me in una delle mie giornate di questa quarantena e con la mia topo macchina ti condurrò ai negozi. Andiamo! Quasi completamente chiusi. La prima cliente che verrà stasera dovrà prendere il suo fondotinta abituale. Preparo il bigliettino. Quando si tratta... Mozzare il bigliettino. Spanio di circa 13 anni. Lo so... Mettiamo adesso! Sì, 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 sì. Arrivata a casa, vi saluto tutti e torneremo a viaggiare ma torneremo anche a mettere di nuovo il rossetto.